È drammatica la situazione in cui versa la località San Giorgio a seguito dei nubi fragili dei giorni scorsi, strade impraticabili, enormi voraggini, lungomare che non esiste più e condizioni della spiaggia a dir poco pietose. Una zona già duramente colpita dall'alluvione di novembre 2016 senza che nessun intervento sia stato eseguito in questi due anni. Di conseguenza l'eccezionale ondata di maltempo della scorsa settimana non ha fatto altro che peggiorare una situazione già assai precaria. In questi due anni non è stato fatto assolutamente nulla. Oggi piangiamo ulteriori danni perché le strade, la viabilità è così compromessa da non consentire l'accesso dei proprietari delle case di San Giorgio ad accedere nelle proprie abitazioni. Quindi piove sempre sul bagnato, non abbiamo mai avuto finora l'assistenza, non abbiamo avuto l'appoggio e il conforto da parte delle autorità competenti. Le condizioni di tutte le arterie sono davvero impressionanti. Qui siamo in via Gelone, anche questa arteria ormai è impraticabile, ci sono residenti che non possono più accedere alle loro abitazioni. Per l'ennesima volta siamo di nuovo in ginocchio. A San Giorgio non possiamo andare a casa, andare a vedere i danni che questa inondazione ha provocato. Da noi in via Gelone sono confluiti tutti i corsi d'acqua che scendono dalla montagna e anche a monte, dalla strada, che è la prima discesa praticamente che porta al mare. E quindi si sono visti persi la gente che è residente lì. Già due anni fa non potevano nemmeno uscire da casa perché si sentivano intrappolati, sono uscite dalla finestra dal retro perché l'acqua è arrivata a due metri. Quelli che ci stanno veramente sono in pericolo di vita. Quindi prego il comune di intervenire in questo senso, di aiutarci perché non sappiamo più che cosa fare. Una località che paga il prezzo di decenni e decenni di disattenzione e disinteresse, malgrado i tanti appelli della popolazione residente alle autorità preposte. È una contrada della quale si parla poco e si è parlato poco pure in questi giorni a seguito del maltempo. Eppure è tra le più danneggiate, denuncia il comitato di quartiere. Ho sentito parlare di San Marco, del Lido, della via del pellegrinaggio, del Can Salamone. Allora mi chiedo, ma San Giorgio non esiste? Noi siamo un appendice, devo dirlo, della di Sciacca, ma per questo non dobbiamo essere considerati come la cenerentola di Sciacca perché qui c'è gente che è a casa, che paga l'Imu, che paga la Tasi, paga dei contributi che richiedono da parte del comune un intervento perché effettivamente quello che possiamo dire è che non c'è reciprocità in questa azione. Noi paghiamo le tasse, migliaia e migliaia di Euro, però non abbiamo i servizi necessari, in primis la viabilità, non abbiamo illuminazione, non abbiamo una segnaletica che all'entrata della località la segnali adeguatamente. Praticamente noi non abbiamo niente rispetto alle altre località, noi non abbiamo una strada dissestata, noi abbiamo il dissesto a 360 gradi. Grazie a tutti.